Amara e bella, amara e bella Dopo il successo nelle settimane scorse dello spettacolo Picciotti Show, il viaggio tra mito, leggende e tradizioni popolari della Sicilia, raccontato attraverso musica, danza e recitazione, la Marco Savatteri Produzioni torna a Sciacca con un nuovo musical che promette anche questo forti emozioni. Camicette Bianche è il nuovo spettacolo proposto dal regista Grigentino in programma domenica 22 settembre presso l'atrio inferiore del Palazzo Municipale con inizio alle ore 21, promosso dal Comune Assessorato alla Cultura. Voglio invitarvi a Sciacca a vedere il musical Camicette Bianche, un'opera di Savatteri Produzioni che portiamo in scena con tanto amore e tanta voglia di condividere una storia vera, la storia di Clotilde Terranova e il racconto dei migranti della Sicilia d'inizio novecento verso l'America. Ci teniamo molto a portare in scena questo spettacolo, siamo attualmente in giro con un tour sia siciliano che nazionale, e non vediamo l'ora di condividere con voi Camicette Bianche. A presto, ci vediamo alle 21 nel lato inferiore del Palazzo Comunale di Sciacca. Ciao! Per assistere allo spettacolo Camicette Bianche è possibile acquistare biglietti presso l'ufficio turistico di Corso Vittorio Emanuele dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. Amore è bella, amore è bella, amore è bella, amore è bella. Grazie a tutti!